Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di fave e pecorino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono fave fresche già sgusciate, pecorino, olio, mandorle pelate, aglio, foglioline di menta, foglioline di basilico e sale. Andiamo il via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccano il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Pugniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'aglio, le mandorle, le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le foglioline di menta e basilico ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 7. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le fave e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio, il sale, e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Il pesto è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di fave e pecorino. Si conserva in frigo per 3 giorni oppure è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!